Sono qui con Salvo Guarera, miglior giocatore dell'incontro della partita del PCS World e del PCSario dei Panini. Complimenti Salvo per la partita, la prossima partita la prenderete agli ottavi di Vai Manguso. Come pensi che sarà la prossima partita? Con quale spirito affrenderete questo ottavo di finale? Speriamo di mettergli la carica giusta per arrivare ai quarti. Fino ad oggi gli abbiamo messo tutta la grinda con i ragazzi e il mister Mario Foti. Spero che ci vada bene. Oggi mancava Salvo Guzzetta che molto probabilmente recupererete anche la prossima partita. Mi auguro che venga venerdì perché sarà il venerdì d'incontro perché è un punto fondamentale della nostra scuola. Ok, allora ci vediamo venerdì prossimo. Grazie. Con quello più di nuovo.